Orgogliosa di essere il sindaco di questa Sacrofano che fa finalmente parlare di sé per le cose belle, come quella di stasera, un'iniziativa stupenda in un contesto meraviglioso che lambisce il centro storico in collaborazione con il Parco di Veio, adatta non solo a chi già ci vive, ma anche a richiamare tanti visitatori da fuori perché Sacrofano ha tante potenzialità e noi vogliamo valorizzarle tutte. Grazie.